Auto in fiamme a Veneria Reale nella strada di venerdì 7 giugno poco dopo le 22, una Fiat Panda posseggiata in via 20 Settembre si è incendiata. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco di Veneria Reale e la polizia locale. Le fiamme sono state spente ma hanno comunque danneggiato anche la parte anteriore di un'altra Panda che sostava dietro la prima. Sono ora in corso gli accertamenti per verificare se si tratta di un atto doloso e torna la paura del piromano in città.